Inaugurati al porto di Giulianova la piattaforma e lo scivolo per disabili realizzati grazie a un finanziamento della regione Abruzzo. Questo permetterà alle persone diversamente abili, ma anche a ragazze e ragazze che vorranno avvicinarsi alla vela e alla canoa, di accedere con facilità allo specchio d'acqua. Il pontile dove ci troviamo in questo momento è un pontile che consente l'accesso allo specchio d'acqua per le persone diversamente abili, che verrà utilizzato sia dai riportisti ma soprattutto dai ragazzi che fanno attività sportiva di vela parolimpica con le imbarcazioni ANSA e la Lega Navale porta avanti un progetto insieme al circolo nautico per fare questo tipo di attività con le persone diversamente abili. A fianco c'è il pontile basculante che consente il varo delle imbarcazioni che poi vengono utilizzate per questa attività. Quello scivolo basculante poi permette anche di raddoppiare la capacità di varo del porto di Giulianova per le imbarcazioni a vela. Questa cosa ci consentirà di realizzare importanti manifestazioni velistiche perché consente appunto il raddoppio del varo di imbarcazioni. I lavori in questione sono stati realizzati grazie a un contributo straordinario di 65 mila euro inserito nella legge di bilancio regionale 2023 sulla base di un progetto dell'ente porto di Giulianova in collaborazione con il circolo nautico Migliori e con la locale sezione della Lega Navale italiana. È un grande passo in avanti la dimostrazione che questa regione, questa amministrazione regionale, questa assessorata è vicino alle persone più deboli, fragili e sicuramente grazie al nuovo piano sociale riusciremo a mettere delle azioni importanti per queste persone. Voglio ricordare tra l'altro anche l'Emporio Solidare a Giulianova che permette appunto di fare una spesa economica alle persone che hanno dei problemi economici, quindi continua l'azione a favore dei più deboli con una serie di misure che dicevo appunto che già abbiamo messo in campo, altre metteremo in campo come lo scorrimento del relatore della vita indipendente, Cargiver, il Dopo di Noi, il rimborso delle spese oncologiche, tante iniziative che sicuramente permetteranno all'Abruzzo che nessuno rimanga indietro.